bene buon pomeriggio a tutti benvenuti al nostro nuovo anno di attività benvenuti dicevo dall'ateneo pontificio regina postolore università europea di roma per questo nuovo anno di attività che iniziano proprio oggi del nostro gruppo di ricerca in neurobiotica e ho il piacere di avere qui con me a mio a mio lato mio fianco il professor alberto garcia che come sapete è il direttore della cattedra unesco in biotica dei tionani e prorettore della facoltà di bioetica pro decano pro decano della facoltà di bioetica l'ho già elevato a prorettore della facoltà di bioetica di questo ateneo innanzitutto vi ringrazio di essere coloro che sono già collegati coloro che ci stanno seguendo da nostri siti istituzionali e lascio la parola al professor garcia per un saluto di inizio sia di questo seminario e sia delle attività di quest'anno duemila ventuno ventidue del gruppo di ricerca in neurobiotica poi riprenderò la parola io per guidarvi in questo pomeriggio tante grazie professor alberto carrara e buon pomeriggio a tutti coloro che ci seguono eh quest'oggi nell'inizio delle attività del corso di perfezionamento in neurobiotica e che alcuni si seguono già da tanto tempo vorrei ricordare e ringraziare soprattutto padre alberto e tutti i membri del gruppo di neurobiotica eh che con grande passione con grande dedizione hanno voluto impegnarsi già da tanti anni praticamente dodici anni che il gruppo di neurobiotica si è interessato proprio negli aspetti antropologici ed etici delle questioni che riguardano le neuroscienze le neurotecnologie ed è da lì che eh si è cominciato proprio a parlare di questa neuro bioetica e con grande piacere fin dall'inizio la cattedra unesco di bioetica e diritti umani che è stabilita dal duemila e nove dall'inizio delle nostre attività sia nell'ateneo pontificio regina apostolorum sia nell'università europea ha voluto dedicare grande forza grande energia di persone per riflettere sugli aspetti etici antropologici che riguardano gli interventi sul cervello umano e quest'anno in particolare dove si affrontano le questioni che riguardano l'intelligenza artificiale non c'è dubbio che è una delle grandi tematiche che riguarda ehm l'etica e non solo a livello diciamo personale ma anche a livello pubblico quanto è importante sicuramente le nostre riflessioni le nostre eh valorazione valutazione intorno alle questioni di tipo sociale e di tipo politico in quale misura queste nuove tecnologie emergenti particolarmente quelle che riguardano l'intelligenza artificiale hanno bisogno sì di una riflessione intorno ai valori ai criteri che devono illuminare il comportamento umano nell'ambito delle scienze della vita e della salute perché di questo si occupa la bioetica ma anche come illuminare le decisioni nell'ambito pubblico nell'ambito sociale quindi io credo che quest'anno sarà senz'altro molto illuminante per tutti voi che partecipati partecipate in queste sessioni del corso di perfezionamento neuro bioetica e mi auguro che oggi particolarmente che un invitato così ehm importante come il dottore Jesús Lafuente eh avrete opportunità di godere e delle sue conoscenze della sua esperienza sia nell'ambito medico nell'ambito sanitario nell'ambito della ricerca sempre con gli spunti che riguardano sia la parte scientifica sia la parte eh filosofica e dell'uso di queste tecnologie emergenti quindi buon lavoro a tutti e buon pomeriggio bene grazie professor Garzia per il sostegno di questi anni veramente se con la cattedra UNESCO abbiamo come gruppo di ricerca avuto una visibilità anche in lingua inglese ricordo che nel 2017 l'editoriale Springer nel volume Debates on Neuroethics ha stabilito eh tra le dieci realtà più attive in questo settore il nostro gruppo di ricerca quindi è grazie appunto a quello che è stato pubblicato attraverso la pagina istituzionale della UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights e anche tutte le attività anche editoriali le pubblicazioni che in questi anni abbiamo portato avanti eh con la cattedra UNESCO io vorrei eh iniziare con un'introduzione e poi un cambio di programma e adesso mi spiego subito inizio a condividere anche il mio schermo così iniziamo fin da ora questa prima parte ehm farò una breve introduzione al nostro percorso di quest'anno un percorso molto ricco molto affascinante un percorso che si colloca in modo prettamente potremmo dire così in sintonia e in linea ormai con i cinque anni di attività di ricerca approfondimento del gruppo di ricerca in neurobiotica e è stato recentemente pubblicato proprio da due giorni è uscito il nostro volume che qui vedete e qui abbiamo in sede diverse copie neurobiotica e transumanismo questo volume è edito dalla casa dalla prestigiosa casa editoriale editori riuniti University Press una casa editoriale di fascia A di cui ringrazio anche la dottoressa Anna Ricca per lo sforzo editoriale questo volume di quattrocento quarantasei pagine che è il frutto anche della metodologia del gruppo di ricerca interdisciplinare in neurobiotica vi ricorderanno e ci si ricorderanno i nostri studenti che sono eh i nostri potremmo così chiamarli li ho chiamati fedelissimi coloro che da anni ci seguono in questo sforzo e in queste ricerche interdisciplinari si ricorderanno che noi nel duemila e diciassette diciotto abbiamo affrontato questa tematica abbiamo voluto considerare la cosiddetta anastomosis cefalosomatica cioè volgarmente nota come trapianto di testa nell'essere umano un'idea bizzarra pazzesca portata avanti dal neurochirurgo italiano Sergio Cannavero e dal suo omologo neurochirurgo cinese Ren. Vi ricorderete anche che è stato il nostro primo corso di perfezionamento dopo diversi anni dal duemila come ha ricordato il professor Garcia dal duemila e nove da quel venti marzo duemila e nove ad oggi e cinque anni fa abbiamo voluto anche condensare le attività di ricerca pubblicazione del gruppo di ricerca neurobiotica attraverso un percorso di formazione quindi non soltanto la ricerca ma questa ricerca deve essere anche deve avere anche delle radici pratiche e deve anche formare formare coloro che sono interessati poi a divulgare ma anche a rendere concreta la neuroetica nella vita perché come vedremo come cercheremo di capire sempre di più anche quest'anno la neuroetica non è una riflessione potremmo dire così tra le pareti di un'università e basta deve farsi vita qui vedo il nostro dottor Bonito che coordina il proprio il gruppo di ricerca il sottogruppo di ricerca sul transumanismo e poi anche il co direttore del master in consulenza filosofica la filosofia se non si rende pratica no a che serve no potremmo chiederci a che serve questo volume è uscito proprio due giorni fa faremo delle presentazioni ma è un po' potremmo dire così il nostro gioiello adesso perché è il primo che sintetizza la nostra metodologia interdisciplinare il nostro percorso di quest'anno vuol continuare che cosa tutto quello che abbiamo visto in questi anni vi ricorderete che noi abbiamo preso come spunto il progetto transumanista forse più importante il progetto 2045 di Dimitri Itzko quel milionario russo che ha coinvolto neuroscienziati tecno scienziati ricordiamo Hiroshi Shiguro il direttore tecno scientifico dell'università di Osaka che è stato portato dalla Pontificia Accademia per la vita dai nostri gruppi di ricerca nella Pontificia Accademia per la vita nella plenaria di due anni fa quando abbiamo affrontato il tema della roboetica e negli ultimi due anni ci siamo dedicati alle sfide dell'evoluzione digitale quindi dell'intelligenza artificiale e in sintonia in stretta sintonia con tutto quello che abbiamo già visto in questi anni di ricerca e quest'anno vogliamo dedicarlo in modo estensivo alle neurotecnologie voi vi chiederete come mai come mai allora io parto in questa introduzione da potremmo chiamarlo così un contesto che è quello della nuova era qui vedete Papa Francesco e Brad Smith presidente mondiale di Microsoft in quell'incontro ormai del 2020 del febbraio 2020 in cui poi Brad Smith partecipò a tutti i nostri lavori della Pontificia Accademia per la vita e che sfociarono in quell'evento in cui molti dei nostri membri del gruppo di ricerca neurobiotica erano presenti il 28 febbraio del 2020 nella auditorio di via della conciliazione in cui c'è stata questa questo evento conclusivo dove c'è stata anche la firma attraverso Monsignor Paglia il presidente della Pontificia Accademia per la vita il presidente della FAO Brad Smith John Kelly III del vicepresidente di IBM eccetera hanno firmato una sorta abbiamo firmato una call una call per l'etica nell'intelligenza artificiale. Papa Francesco nell'enciclica laudato sì la terza parte che la chicca potremmo dire il gioiello anche per noi che è sul paradigma tecnocratico il Papa Francesco ci dice l'umanità è entrata in questa nuova era quella della potenza tecnologica che ci pone di fronte a un bivio effettivamente il tema del bivio di una strada che si divide e si biforca e quindi può prendere una strada verso il bene e una strada verso il male lo diceva nell'intervista anche all'osservatore romano Brad Smith diceva che la l'intelligenza artificiale l'evoluzione digitale come una scopa io la posso usare per fare il bene spazzare pulire la mia stanza oppure posso darla in testa a qualcuno fino a ucciderlo e il Papa diceva in pochissime righe faceva quella carrellata delle quattro grandi rivoluzioni industriali quando effettivamente diceva siamo gli eredi di due secoli di enormi trasformazioni diceva il Papa in questo numero della laudato sì il numero 102 dalla macchina a vapore la ferrovia il telegrafo l'elettricità l'automobile l'aereo le industrie chimiche la medicina moderna l'informatica e più recentemente la rivoluzione digitale la robotica le biotecnologie le nanotecnologie il Papa diceva è giusto anche rallegrarsi di tutto quello che la scienza oggi permette di fare io direi anche in questo periodo di pandemia noi dovremmo ringraziare effettivamente la scienza che ha potuto darci anche tanti strumenti che se no avrebbero sicuramente creato una situazione molto peggiore rispetto a quella in cui viviamo e il Papa dice iniziamo da lì dall'entusiasmo e da rallegrarsi però attenzione perché se è pur vero che la trasformazione della natura a fini di utilità è questa caratteristica del genere umano io sempre faccio l'esempio dell'antropologia delle carenze portata avanti da grandi antropologi come Arnold Gellin eccetera la nostra corporeità è una corporeità involuta da un certo punto di vista proprio perché non siamo specializzati in nessun habitat ma li popoliamo tutti persino siamo andati sulla luna anche se qualcuno dubita di questo e Elon Musk come vedremo tra poco sogna di portarci tutti su Marte quindi c'è una caratteristica del genere umano quella di esprimere la tensione del suo animo verso quel superamento di certi condizionamenti materiali della sua corporità ma anche pensiamo della sua psichicità e quindi la tecnologia dice Papa Francesco apposto rimedio ai numerevoli mali che affliggevano e limitavano l'essere umano non possiamo non apprezzare i grandi progressi della medicina dell'ingegneria della comunicazione e come non riconoscere a tutti gli sforzi di molti scienziati e tecnici che hanno elaborato alternative per un sviluppo sostenibile noi l'abbiamo conosciuto nel senso non fisicamente perché morì nel 2011 ma John McCarthy è stato uno dei protagonisti dei nostri corsi di perfezionamento di due anni fa di quello del diciannove venti venti ventuno sull'intelligenza artificiale e oggi non c'è dubbio che c'è una sempre più imperante ibridazione tra la tecnologia le protesi la robotica eccetera e la biologia umana questa ibridazione uomo questa ibridazione tra la biologia dell'essere umano e la tecnologia opposto per iniziare il nostro percorso di quest'anno che si snoderà come avrete visto vedrete nel nostro calendario da oggi cioè dal ventiquattro settembre fino a giugno del duemila e ventidue in un incontro mensile poi ne avremo anche incontri extra come siete ovviamente abituati già coloro che ci seguono da anni noi offriremo sempre molto più materiale rispetto a quello eh del del nostro percorso standardizzato offrendoli in modo anche opzionale e quindi avremo sempre i nostri incontri mensili ma poi durante l'anno avremo anche esperienze e quest'anno pianifichiamo anche di avere esperienze ehm con sedi staccate e magari conferenze che organizzeremo non fisicamente da Roma ma in altri centri come quello di Brescia con cui già collaboriamo piuttosto che con altri centri eh in Italia e non solo in Italia ma all'estero perché perché il gruppo di ricerca in neurobiotica da quest'anno vuole avere un respiro anche internazionale proprio utilizzando la piattaforma digitale le piattaforme digitali e le traduzioni quindi avremo traduzioni italiano inglese inglese italiano dipendendo poi in base ai relatori che avremo un caso di studio che ci introduce mediatico se vogliamo ma anche che ha avuto una che ha una grande risonanza è quello di Elon Musk tutti conoscono Elon Musk famoso non solo per Tesla ma anche per diverse startup come SpaceX eccetera e un'altra che è Neuralink e dal dall'estate dell'anno scorso Elon Musk ci ha abituati diciamo così a questi eventi mediatici in cui lui propone fa vedere le innovazioni di potremmo chiamarle così miniaturizzazione di tecnologie che vogliono ibridare la biologia in questo caso dell'animale ma ovviamente nel futuro sarà dell'essere umano sempre di più una ibridazione sempre più intima potremmo dire così sempre più per alcuni invasiva sempre per alcuni un po' che si che accede a quel organo così misterioso affascinante che è il cervello umano e in questo caso vi ricorderete l'anno scorso l'estate 2020 Elon Musk presentava questi maialini questi maialini che erano stati ibridati avevano dei sensori quindi avevano subito delle vere e proprie neurochirurgie in cui determinate aree della corteccia cerebrale venivano ibridate da questi dispositivi che leggevano queste interfacce cervello macchina che leggevano e quindi riportavano che cosa gli spike cioè quegli eventi elettrochimici di neuroni di questi animali vi ricorderete se non ve lo ricorderete era famoso proprio l'estate l'estate di quest'anno in cui Elon Musk ha presentato un altro evento mediatico in cui eccola qui questa scimmietta che giocava a pong questo gioco questo videogioco molto semplice e cosa voleva dimostrare Elon Musk con questo perché anche questa scimmia va subito una neurochirurgia e che dimostrava voleva dimostrare che la scimmia imparava e anche la tecnologia imparava dalla biologia della scimmia nel senso che registrando il movimento l'allenamento che subiva questa scimmia per giocare a pong nel senso che c'era un condizionamento ogni volta che la scimmia eseguiva bene i movimenti della delle stanghette per seguire la pallina riceveva un succo di frutta un succo di frutta quindi veniva condizionata poi cosa succedeva aveva un'ibridazione quindi un lettore che leggeva cosa succedeva nella sua corteccia cerebrale motoria soprattutto premotoria e poi anche parietale perché appunto l'intenzione movente anche già c'è lì potremmo dire così un po ridotti riduttivisticamente parlando e quindi avevano compreso avevano capito avevano decodificato questa intenzione movente poi avevano scollegato la scimmia fisicamente dall'apparato e avevano visto avevano dimostrato che con la forza tra virgolette veniva così presentato con la forza del pensiero la scimmia riusciva a controllare questa questo videogioco ora non sono delle novità cioè per gli esperti in neuroscienze per gli esperti in brain computer interfaces e quindi per tutti gli esperti in interfaccia cervello macchina queste di neural link non sono delle novità potrà anche corroborarlo il professor Jesús Lafuente che poi mi accingerò a presentare ma basti ricordare che il primo caso nell'essere umano di ibridazione uomo macchina risale al 2004 quando Jen Sherman una volontaria tetraplegica americana che soffriva di una patologia genetica degenerativa si sottopose a una prima neurochirurgia di ibridazione uomo macchina ovviamente gli esperimenti sull'ibridazione tra la biologia e quindi degli esseri senzienti e le interfacce che permettono poi il movimento per esempio di un baraccio robotico esterno o di strutture robotiche esterne erano già noti e quindi gli esperimenti sul ratto sulla scimmia datavano negli anni 90 e soprattutto a cavallo tra il 1999 e 2000 l'amico professor migueli nicolellis del nicolellis lab negli stati uniti neuroscienziato di origine brasiliana grande nome nell'ambito dell'interfaccia cervello macchina fu colui se vi ricorderete che nei mondiali di calcio 2014 portò il suo gruppo di ricerca portò quel ragazzo brasiliano in sedia rotelle al centro del campo da calcio dotato di questo esoscheletro munito di un'interfaccia questo esoscheletro riceveva le informazioni di un casco ig che leggeva a sua volta cosa succedeva tra virgolette nel cervello di questo ragazzo questo ragazzo si mise in piedi grazie ovviamente all'esoscheletro diede qualche passo e diede il calpo il calcio d'inizio dei mondiali del 2014 questo diciamo questa ibridazione molto sofisticata tra neurotecnologia era portata avanti proprio dal laboratorio di miguel nicolellis e quindi per dal 2004 ritornando a gen sherman ad ho al 2014 per dieci anni questa donna è stata studiata con questa interfaccia cervello macchina era collegata il suo cervello era collegato un braccio robotico e ha portato importanti studi quindi non è una novità anche nell'essere umano esistono già ibridazioni uomo macchina quello che ilo mast sta facendo a mio avviso è innanzitutto voler rendere questa tecnologia uno sempre più sofisticata e miniaturizzata quindi la sua start up ha come l'obiettivo di miniaturizzare le cose ovviamente lui non ha un centro di ricerche ospedali eccetera come start up quello che lui vuole fare poi è il sogno di poter rendere disponibile queste tecnologie certamente dal punto di vista umanitario per per esempio aiutare persone che soffrono di determinate patologie neurodegenerative per poter anche comprendere sempre meglio il funzionamento e la struttura del funzionamento del nostro organo cerebrale ma anche ovviamente il suo sogno anche quello di rendere disponibili queste tecnologie per persone completamente sane e qui si inserisce in quella visione che anche l'altro grande fondatore il fondatore di una cosa che abbiamo tutti no tra di noi forse no facebook mac zakenberg qualche anno fa diceva il futuro della comunicazione futuro della comunicazione è la telepatia e cosa voleva dire con la telepatia ecco alcuni concetti che ricorrono nella letteratura scientifica il mind uploading anche pseudo scientifica e anche futurista e anche transumanista il cosiddetto mai mind uploading la telepatia concettuale l'intelligenza simbiotica tutti i concetti che riferiscono a che cosa la possibilità di decodificare anche concetti o correlati di concetti e poterli poi fare esprimere per esempio a una macchina e questi sono tutti gli strumenti che noi abbiamo cominciato a perfezionare nell'ambito del linguaggio del linguaggio decodificando il pensiero non verbale che si converte in pensiero verbale attraverso una una macchina e la cinematografia è piena di queste di questi eventi ne abbiamo parlato ne parleremo eccetera ma da avatar 2010 2009 fino a gli ultimissime serie alte carbon prima serie seconda serie le serie di amazon prime upload eccetera sono tutte visioni in cui neuroscienze da una parte tecnologia dall'altra cercano di spingere verso un sogno un sogno che dimitri izkov ha sintetizzato in questo progetto no rende l'uomo tra virgolette l'uomo perché dopo bisognerebbe chiedersi che uomo immortale l'immortalità cibernetica non mi soffermo ovviamente ma entriamo nel nel vivo steven rose un grande neoscienziato contemporaneo diceva il secolo ventunesimo è a detta di molti il secolo d'oro del cervello il secolo d'oro del cervello a me piace iniziare sempre anche il mio i miei corsi di neuroetica proprio da da questo autore e la storia delle neuroscienze come poi ascolteremo anche più avanti è una storia lunghissima lunghissima nel mio corso di neuroetica quando tratto questo argomento dico che almeno sono 5 mila anni di storia 5 mila anni di storia pensate che in note architetto e medico egizio 2690 2620 anni prima di cristo era potremmo dire così il collega sia del professor Buchanan sia del professor la fuente questo grande diciamo neurochirurgo egizio perché aveva costruito una tecnologia che permetteva la trapanazione cranica e non sappiamo che sostanza utilizzasse ma sappiamo dal papiro di eddie smith del diciottesimo secolo che erano cartelle cliniche rudimentali di questo grande architetto e medico egizio che diversi pazienti erano sopravvissuti a queste vere e proprie neurochirurgie una lunga storia che ci parla dell'interesse di che cosa dell'essere umano che a fianco i grandi filosofi che erano molto spesso grandi scienziati all'inizio scienziato e filosofo combaciava no era un coloro che avevano il tempo per poter dedicare all'osservazione no come per esempio i grandi come al comeone di crotone il padre della teoria cerebrocentrica 500 anni prima di cristo a crotone nella magna grecia lui aveva compreso osservando lo sviluppo embrionario dei polli che non era il cuore la struttura che si formava per prima bensì il cervello poi aristotele sappiamo che sposava invece la teoria cardiocentrica ma platone il suo maestro era un cerebrocentrico un cerebrocentrico il timeo e altri dialoghi sono le sue neurofisiologia al filosofico potremmo dire così una lunga storia che va da questi autori a l'ultimo secolo in cui i grandi sviluppi l'ibridazione la potenzialità quello che io dico con la circolarità dinamica tra sviluppo tecnologico quindi la tecnologia che da una parte mi permette di scoprire di più sulla struttura e la funzione del cervello e questa conoscenza riverbera ritorna perché fa sì che possiamo costruire strumenti come per esempio oggigiorno le evoluzioni del machine learning che sfruttano conoscenze di come funzionano gli strati fisici neuronali per esempio del sistema visivo umano e quindi da una parte c'è una circolarità dinamica perché poi la tecnologia che si sviluppa permetterà o permette già di continuare questa affascinante ricerca per capire i misteri della struttura e del funzionamento di quest'organo così importante ecco affronteremo nel corso tantissime cose quello che faremo nei prossimi mesi cioè da settembre fino a dicembre è dare lo status questionis cioè di passare attraverso personaggi che stanno dedicando la loro vita la loro passione come medici come ricercatori come neurotecno scienziati per farci vedere che cosa realmente oggi è possibile e che cosa potrà diventare possibile razionalmente parlando nel futuro non fantascienza no realtà cioè noi anche come gruppo di ricerca certamente magari partiamo dalle sollecitazioni di coloro che ci offrono degli scenari transumanisti ma poi vogliamo toccare con mano conosce la realtà in questi anni vi siete resi conto noi siamo anche andati abbiamo collaborazioni abbiamo anche un lavoro un laboratorio qui nel nostro università europea di roma dove non rimaniamo solo nella teoria ma questa teoria poi si deve alimentare nella prassi e questa prassi deve ritornare ad alimentare la teoria e quindi una circolarità dinamica in questi quattro mesi noi cercheremo di fare come dire una carrellata entreremo conosceremo tutto quel mondo delle neurotecnologie quindi abbiamo una grande quantità potremmo dire così neote di tecnologie che si ibridano in vari modi vari modi alla biologia umana certamente la grande distinzione è quelle invasive non invasive e poi successivamente ci saranno tantissime sottodivisioni e che anche avranno a che fare tanto con le funzioni se noi pensiamo alla teoria di paul mclean chi conosce la storia delle no scienze sa che nel 1952 paul mclean codifica il cosiddetto cerebro cervello triuno cervello trino triuno pensando all'omologia anatomica tra gli esseri senzienti e vedendo che c'è una stratificazione dal basso verso l'alto tra le strutture per esempio del tronco bulbo mesencefalo che presiedono le funzioni vegetative respirazione battito cardiaco eccetera le strutture risalendo quelle del sistema limbico quindi le affetti le emozioni la paura eccetera gli istinti e poi poi l'attaccamento e poi tutto l'ambito corticale neocortex nell'animale dove c'è tutto tutto diciamo le funzioni che noi chiamiamo più evolute tra virgolette e quindi anche nell'essere umano tutte quelle aree cerebrali che presiedono mediano veicolano sono il sostegno per utilizzare tutti i termini non riduzionistici le grandi funzioni cognitive affettive volitive dell'essere umano e quindi poi noi avremmo anche neurotecnologie che toccheranno queste tri partizione tra virgolette funzionale cioè neurotecnologie che avranno a che fare con la neuromotricità neurotecnologie che avranno a che fare con gli aspetti cognitivi neurotecnologie che avranno a che fare con aspetti anche affettivi volitivi e poi ovviamente anche l'ibridazione di tutte queste neurotecnologie questo l'ho trovato in uno delle recenti review che metteremo a disposizione recent advances in neurotechnologies with broad potential for neuroscience research di nature neuroscience una sorta di panorama sia di quelle che sono veramente proprio le strutture microscopiche no microscopiche di ibridazione che poi ascolteremo proprio da chi lo fa tutti i giorni questo e poi che cosa dal punto di vista biologico queste neurotecnologie vanno ad interferire o a toccare o a modulare e ovviamente c'è il nostro tema perché è lì dove io adesso vorrei arrivare questo è un grande progresso no della tecnologia delle nanotecnologie delle biotecnologie che riescono a miniaturizzare e a rendere anche la vita no dei neurochirurghi a volte un po più facile anche con anche la microscopia eccetera voglio arrivare a questo la lunga storia delle neuroscienze non è mai stata potremmo dire così neutra capitemi adesso cosa voglio dire con i termini neutro cioè la storia delle neurotecnologie delle neuroscienze non è mai stata avulsa dall'umanesimo no primo perché il neurochirurgo stesso è un essere umano e quindi ha di per sé implicitamente esplicitamente un sistema valoriare di riferimento è cresciuto in una cultura in una tradizione anche religiosa eccetera poi anche perché forse soprattutto da il dramma della della prima ma soprattutto dalla seconda guerra mondiale e poi dalla nascita qui abbiamo appunto la catena unesco in via etica dei reti umani cioè dalla nascita di quegli organismi dell'unesco dell'onu e quelle lettere quei documenti sui diritti umani nascono da che cosa dal fatto di essersi resi conto drammaticamente pensate alla bomba atomica nucleare che la scienza non è neutra cioè la scoperta scientifica di per sé è sempre un bene ma la sua applicazione è lì dove si colora si colora potremmo dire così di bene o di male quindi ha un aspetto a un risvolto non indifferente non esiste nessuna applicazione scientifica che non abbia la potenzialità di fare del male come esiste effettivamente se lo è di fare per il bene lì si inserisce lo sviluppo di quella che è oggigiorno la neuroetica io brevemente in pochi minuti darò la visione del nostro gruppo di ricerca sulla neuroetica che è una mia visione anche personale e su quello che ormai da tantissimi anni noi come gruppo ricerchiamo e che abbiamo avuto anche rispetto altri gruppi di ricerca dello stessa diciamo della stessa disciplina prospettive abbastanza diverse siamo entrati in contatto con colei che coniò per prima nel 1973 per quello la data lì in alto 1973 è l'anno in cui per la prima volta nella nella letteratura scientifica in particolare nella rivista che si chiamava si chiama perceptual motor skills analyze alma ponzius una neuropsichiatra quindi medico clinico neurologo e neuropsichiatra di origine tedesca naturalizzata negli stati uniti prima incardinata potremmo dire così strutturata nella new york new york university e poi concluse la sua carriera brillante brillante carriera nella prestigiosa università di harvard lei nacque nel 1921 quindi quest'anno celebriamo i cent'anni della sua nascita e morì nel 2018 personalmente ho avuto il modo di conoscerla attraverso una corrispondenza epistolare e proprio per la curiosità di come mai lei nel 1973 parlasse di neuroetica la sua figura venne oscurata nel senso che venne dimenticata diciamo fino a pochissimi anni fa e un pregio del nostro gruppo di ricerca è quello di averla riabilitata nel senso di averla scoperta scoperta tra virgolette lei molto nota nell'ambito realmente delle neuroscienze perché è stato come una pioniere di tantissimi ambiti soprattutto l'ambito anche pensate della neuroeducazione e tutto il tema anche del cosiddetto neuro diritto perché Analyse Alma Pontius si dedicò moltissimo al studio delle interazioni del lobulo prefrontale e tutto il tema della maturazione del lobulo prefrontale in corrispondenza con fattori avversi in particolare nella neuromaturazione dell'adolescente e quindi dell'adolescente vulnerabile in habitat cioè tra virgolette habitat in ambienti e stili di vita negativi come per esempio famiglie disfunzionali come per esempio a quartieri per esempio il Bronx eccetera e quindi studiò molto quello che poi diede origine a quello che oggi sono è un settore della neuroetica che si chiama il neuro diritto dal 1973 ad oggi potremmo dire così noi possiamo definire almeno la mia definizione ma che anche quella che eccola qui Analyse Alma Pontius questo era il famoso articolo famoso per coloro che sono neuroeticisti di Perceptual Motor Skills dove la parola neuroetica appare nel titolo e nell'ultima pagina dell'articolo dove lei dice che esisteva una nuova e negletta area dell'etica che chiamava neuroetica perché lei parlava di neuroetica parlava di neuroetica perché negli Stati Uniti negli anni sessante imperava un movimento un movimento che aveva che era il comportamentismo che interpretava la l'azione dell'essere umano in un modo che poi aveva delle ripercussioni dal punto di vista psicologico e neuromotorio perché perché lei si scaglia come vedete bene dal 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 titolo dell'articolo contro una prassi quindi vedete la nascita della neuroetica è pratica molto pratica non è la neuroetica degli anni 2000 che si schiera solo su che cosa su quegli esperimenti un po' pop che dico io di diciamo dei dilemmi morali e quindi ti mettono un casco IG e ti dicono guarda questo video se senti se vuoi uccidere l'uomo grasso quello magro se lo butto dal 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 ponte per fermare un treno per salvare cinque persone rispetto a tre tutte queste cose che sono interessantissime perché hanno permesso di capire che nel giudizio morale non entra solo il razionalismo ma entrano anche le emozioni benissimo ma non tutta la neuroetica anzi per me è quella una minimissima parte della neuroetica la neuroetica vera potremmo dire così a nostro avviso è quella che si dà che parte nasce dalla clinica che nasce anche dalla critica di prassi cliniche con un fondamento una prospettiva neurobiologica molto importante come quella che aveva Annalisa Alma Pontius questo articolo critica il pseudo potenziamento motorio di coloro che volevano i sostanziali sostenevano in quegli anni di convincere milioni e milioni di genitori a porre i neonati in stazione retta farli camminare precocemente c'è una sorta di manipolazione che per loro doveva dare il frutto di che cosa? di far maturare prima il sistema nervoso e quindi di potenziare questi neonati lei da neuropsichiatra dice no e dà tutta una serie di motivazioni di letteratura scientifica di ipotesi di lavoro che purtroppo poi le diedero ragione nel 1993 vent'anni dopo Annalisa Alma Pontius pubblica un altro articolo molto importante su questo ambito aggiungendo vari altri ambiti di critica sempre al comportamentismo interessante in questo articolo perché lei critica che cosa? quella che lei chiama la nuova matematica anzi non lei la new maths cioè tecniche di apprendimento dell'aritmetica e anche dell'imparare anche a leggere tecniche per imparare a leggere e a scrivere in modo veloce che non erano congrue con la neuromaturazione cioè con la maturazione del sistema nervoso delle persone a cui venivano somministrate tra virgolette è come somministrare al posto di una medicina una prassi che purtroppo ha dato origine infatti lei in quell'articolo lo affermava quello che lei gridava vent'anni prima purtroppo diede origine a milioni e milioni di dislessici negli Stati Uniti qui non sono cose senza per quello nasce il principio neuroetico e il principio neuroetico si può riassumere così è quella riflessione sui potenziali effetti dannosi di prassi che non seguono ciò che le neuroscienze oggi ci dicono su tre cose la l'evoluzione cioè lo sviluppo la struttura e il funzionamento del nostro organo cerebrale e molti dicono sempre il cervello ma ricordiamoci che il cervello è sempre una parte di un sistema molto più ampio e complesso che il sistema nervoso qui vedete i grandi potremmo dire così padri e madri della neuroetica Annalisa Mappontius Ronald Eugene Cranford il primo che nominò il cosiddetto neuroeticista nei comitati etici dei degli ospedali a sua detta doveva essere un neurologo Ronald Eugene Cranford parla del neuroeticista nel 1989 poi dall'ambito io questo lo chiamo modello medico clinico cioè Annalisa Mappontius e Ronald Eugene Cranford per me sono i clinici che hanno stabilito il modello medico clinico della neuroetica poi c'è come una cesura c'è una cesura e la neuroetica passa ad essere appannaggio di filosofi però filosofi di un certo schieramento potremmo dire come Patricia Smith Churchland la vedete lì in basso dopo sotto Annalisa Mappontius lei moglie di Paul Churchland il grande filosofo della mente che sposano l'eliminativismo del mentale qui loro vanno oltre il più riduzionista dei neuroscienziati contemporanei vanno oltre da filosofi no dicendo che non esiste nessuna cosa che noi chiamiamo amore sentimenti desideri eccetera tutto questo sono flatus vocis quello che esiste sono solo i network cerebrali neuro biochimica lei scriverà un volume tradotto anche in italiano la neurobiologia della morale un volume di 300 pagine di cui da filosofa di cui 250 o più sono un'analisi dal punto di vista chimico biochimico di un neuropeptide di 9 aminoacidi l'ossitocina per dire che la morale non è altro non si ridurrebbe niente che meno che un'evoluzione di questo neuropeptide capite da filosofa da filosofa qui un bellissimo trattato sull'ossitocina e poi le poche ultime pagine sono una breve e un po riduttiva visione filosofica dall'altra parte c'è il william sapphire il politologo del new york times che nella famosa conferenza quella si famosa perché tutti ricordano quando si parla di neuroetica il 2002 anno in cui negli stati uniti a san francisco la dena foundation con cui anche il nostro gruppo di cerca collaboro da anni per la world per la brain awareness week william sapphire partecipò a questo convegno di 150 esperti tra neuroscienziati politologi economisti eccetera e lui definì la neuroetica come lo studio di ciò che si può fare non si può fare che è giusto sbagliato su dice lui sulla manipolazione spesso preoccupante del cervello umano poi arriverà sotto la vediamo and adina roskis adina roskis canadese filosofa neuroscienziata che vi parte nel 2002 divide dice la neuroetica si divide in due parti vedete anche subito il neologismo neuroetica basta che tracciate una linea che va da neuro a etica e una da etica neuro e avremo le due parti della neuroetica seconda di naroskis che sarebbe l'etica delle neuroscienze e le neuroscienze dell'etica poi nell'articolo che lei pubblica in breve articoli tre paginette su neuron nel luglio il 3 luglio del 2002 è molto molto più articolato di questa semplice bipartizione lei la suddivide ulteriormente sia l'etica delle neuroscienze le neuroscienze dell'etica dicendo la cosa forse più interessante della neuroetica oggi sono le neuroscienze dell'etica cioè la reinterpretazione di quei grandi classici concetti neuroscientifici di sempre coscienza libero arbitrio emozioni oggi letti anche io direi anche quella parolina importante secondo me dal punto di vista delle neuroscienze e poi c'è lui sotto il padre della neuropsicologia contemporanea michael s gazzaniga autore dei volumi proprio sul sulla neuropsicologia contemporanea sullo split brain lui ebbe la fortuna di lavorare con premio nobel per la medicina rogers perry quindi fece tutte le sue analisi psicologiche sui pazienti split brain e di quello diciamo vive continua a vivere e il prestigio anche che ha in tutto il mondo e questi un po sono gli autori chi volesse approfondire ho scritto la l'ultima voce che sintetizza anche la visione un po di questi modelli il modello medico clinico il modello filosofico il modello bioeticista e il modello sociale di neuroetica in questa voce del nuovo dizionario teologico interdisciplinare della deoniana nelle pagine 545 552 per gli studenti del nostro corso e così invito anche a iscriversi metteremo a disposizione il pdf metto a disposizione il pdf di questo volume bene allora con questa potremmo dire così introduzione voi mi potete dire ma come mai il professor carrara si è preso tutto il tempo che in programma era stabilito per il professor bobo buchan robert buchanan prima della pausa perché adesso poi faremo una breve pausa e poi avremo il relato il secondo relatore perché il professor e il professor buchan non oggi non è non è potuto restare non è potuto venire fisicamente sarebbe venuto fisicamente per la plenaria della pontificia accademia per la vita di lunedì prossimo ma ha avuto un grave problema familiare quindi non è non può essere né fisicamente qui e nemmeno ha potuto collegarsi lo ricordiamo c'è chiesto di ricordarlo nella preghiera e lo ricordiamo la preghiera speriamo non sia qualcosa di così serio però per aver cancellato questo evento e anche la plenaria della pontificia accademia per la vita l'incontro col papa deve essere abbastanza serio lo riavremo molto probabilmente ad ottobre nel senso o nel prossimo incontro oppure una registrazione del suo intervento che era previsto aveva preparato per oggi nel mese di tra ottobre e novembre io adesso lascerei come dal programma almeno cinque minuti di pausa per respirare un attimo e poi subito dopo io presenterò il professor jesus la fuente che è arrivato da barcellona proprio oggi e che resterà con noi poi oggi e poi anche sarà con noi in questi giorni e lui sarà il relatore della della poter dire appunto della l'unica e prima lecture perché la mia è stata una introduzione di questo pomeriggio ed è il nostro corso di perfezionamento in neurobiotica sulle neurotecnologie una lecture che introdurrò sia presentando lui e sia un po' presentando un po' anche l'argomento affascinante estremamente affascinante di cui ci parlerà quindi vi invito a rimanere collegati cinque minuti di pausa ci rivedremo ci vedremo tra poco grazie 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 benissimo allora riprendiamo la seconda parte di questo pomeriggio dovreste essere tutti collegati controllo la registrazione benissimo la seconda parte avremo avuto appunto vi dicevo sul nostro abbiamo messo il titolo neurotech tra passato, presente e futuro perché vogliamo dare un orizzonte su quelle che sono potremmo dire così lo stato dell'arte, le novità ma anche l'esperienza vissuta di un neurochirurgo di fama mondiale e io sono molto contento di avere qui a mia destra il professor Jesús Lafuente è stato un contatto di un nostro carissimo padre, padre Hernán Jiménez che è anche il nostro delegato ma anche il vicario generale della nostra congregazione che quest'estate mi ha messo in contatto con lui e spero che appunto da questo contatto possa continuare una collaborazione, un'amicizia e quindi lo ringrazio di essere venuto direttamente da Barcellona per questo evento e poi per la plenaria della Pontificia per la vita di lunedì prossimo. Vi presento brevemente il professor Jesús Lafuente, lui è neurochirurgo quindi poi medico, neurochirurgo dell'ospedale universitario del Mar Barcellona Spagna, direttore dell'unità spinale dello stesso ospedale, professore associato presso l'università autonoma anche di Barcellona e presidente eletto dell'European Association of Neurosurgery Society dal 2017 e quindi un esperto in questi settori poi ci racconterà quest'oggi non soltanto come lui ci farà un panorama di quello che ci presenterà, non soltanto la sua professione ma anche come la sua professione secondo me è molto interessante. Poi anche tocca il sociale, tocca anche potremmo dire così un ambito molto importante che è un tema, un diritto potremmo dire così, sancito da quella convenzione della bioetica e diritti umani del 2005 dell'UNESCO che è l'equality, equità. Penso che dal dialogo in macchina questa mattina penso che uno dei diritti principali che voi forse dovete tenere in mente o risalteranno dalla seconda parte del suo intervento sarà come effettivamente rendere accessibile a tutti. Il Papa sottolinea molto questo tema Papa Francesco che tutto questo mondo scientifico tecnologico non è solo per tutto l'uomo ma per tutti gli uomini. Allora lo ringrazio e a lui la parola sicuramente sarà una presentazione molto dinamica e affascinante quindi gli chiediamo anche di condividere il suo schermo. Grazie. Grazie Alberto. Grazie Alberto. It's been a great pleasure and a great honor to be in Latenea Pontificium Regina Apostolorum and be invited in such an amazing and interesting Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, sorry, now we're good. Anyway, thank you, Professor Carrara, for the invitation. I think it's a fantastic initiative with UNESCO, which is a great brand name for this. And I think the quick issue here is we need to protect a person's identity. And I think it's the main issue when we talk about ethics and we talk about medicine. I think I've been brightly presented by you. And now I'd like to show you this is the view from my hospital. I think it's a bit depressing, as you can see. And you can watch it while I describe the index of the talk. We're going to be talking about the brain and the spinal cord very briefly. I would like to emphasize ethics as it's been in great detail. mentioned by Professor Carrara. But yes, I'd like to discuss a bit neurotechnology, robotics, not only for treatment, but for training and how important and relevant this is. We will see some videos of brain-computer interface. I know Professor Carrara has mentioned this. And I'd like to show you some videos which will be even more clear for comprehension because it's not very easy to understand what's going on in that new technology. And for me, as Professor Carrara was saying, equality, this technology is great, but it's non-ethical. It is only for the rich ones and not for all the people in the world. And we need to do or make sure we can, if not provide with the high tech, certainly provide with the training so they have it all in. Very quickly, I'd like to talk to you about the brain and spinal cord very briefly. You all know what the brain is a very complex organ. It weighs about 1.5 kilos and controls thought, memory, emotion, touch, motor skills, vision, breathing, temperature, hunger, and every single process that regulates the body. And the spinal cord is a prolongation or an elongation of the brain, which acts like a speedway where the motor terminals and the sensory terminals distribute along the skeletal muscle. So all the orders provided and given in the brain be transmitted through the spinal cord into all muscles and allows movement, stability, and so on. So very important structures. Yes, a brief touch on the soul, which is being here in a Catholic university. I could not stop mentioning it. I think it's very irrelevant in the sense that what's the soul, where is it, and we will know and we will talk about that the soul resides in the head or in the brain. And this is not something that we have found out, but certainly Imhotep was mentioned before. He removed or he did trefiance in the head and the skull in order to get out the bad spirits, and they believed that this would make the person better. Of course, the patients who survived did have a better spirit, because if not, they knew what was coming on. So basically, I think the soul, which was rendered like once the body was decomposed, we used to appeal to a spiritual principle, which is a non-empiric, but that guarantees the fact that we will become immortal. And this has been going on from theologists, philosophers, and doctors, even, until the 18th century. It was Henry Bergson, and I think I quote this philosopher, because I think it's relevant, the vision he had. He was a Jew philosopher, born in Germany and died in Germany during the war in 1941. He was awarded with the literature Nobel Prize, and he had the vision, clear vision, that mentioned if humanity doesn't give a chance to the soul, to the spirit, it will be crushed by the way of its own technological process. And I think this is the reason why neuroethics came into play, and this is only a hundred years ago. So people who live a hundred years ago, they have more vision than people who live in our actual days. And just a brief one, just to mention, very, very young Danish philosopher, died at age 40. He was a great existentialist and individualist, and he believed that the individual is the person who, by his beliefs and vision, working his own brain, makes things change in social, and this is taken by other group of people which established laws and so on. And so I think he was also clear on the fact that who didn't have a soul lives in the basement on his own building, which means that if you have no moral, you have no emotions, you live in darkness. But it was up to 19th century, theologians, philosophers believed that the soul was something embedded in the human body, and when you die, this went to the next stage, so to speak. Recently, this has changed, this has become synonymous to mind, cognition, and conscience. And if we talk about ethics in medicine, which is what we are talking about now in this part, I think also called moral philosophy, is a discipline concern of what is morally good or bad, or what is morally wrong or right. I think this is very relevant in the days, but this is not new. I mean, we have to go to five centuries before Christ, the hypocrite of in 500 years or 400 something before Christ, which was very clear. And this with other theontological codes have contributed from the global historical perspective to regulation of these actions, the actions of the patient relation with the doctor. And I think this is amazing, considering this is so long, 2,500 years ago, and it's only in the 20th century, this has prevailed. I remember when I did my medical school, I had to do the oath of a Hippocrates, and most of all of us had to do it before they gave us the title of medicine. At least in Spain, at least in Spain, I'm sure, in Italy and other countries happened similarly. But after that, the 20th century, with all the progress of technology, I think new steps have to be built up. And this allowed preservation of the rights of the individuals and their ecosystems, because not all the individuals are the same. And we need to distinguish into individuals who have some disabilities and they cannot make decisions by themselves. We need to look after these people as well as the others. But these ones particularly, they are in a weak spot, and these are the ones who are bringing bioethics and neuroethics up to where they are at the moment. So this is a hypothetical of, and two very key elements, primum non notere. This was written 2,500 years ago. And you can read, I will enter to the help of the sick, and I will abstain to all intentional wrongdoing and harm. But only this is relevant. Also, he said, I think it was the first data protection document ever written 2,500 years ago, where he says, I will never divulge holding such things to the holy. So anything I do, any problems my patient has, I will not share with anyone, unless he wants me to. From the Hippocratic Oath, of course, more things you can, he wrote, like, it was more important to know the person that suffers the disease than the disease than suffers the person. Making a point at the point that the disease is important, but the people and the personality, the emotions, different people take the disease in different ways. And I think he identified this throughout his experience as a doctor and his teachers and trainees. And he established this as a very, very key element, which holds still today. And I think even more importantly, with respect to bioethics, I'm not going to say much about this. I think Professor Carrara has extensively mentioned this, but I think bioethics have brought good things like guides of good practice, which we know all doctors do like protocols. And we should not move around or outside these boundaries. And I think NICE, National Institute of Clinical Excellence, created in England in the year 2001, I think, make sure that these guides of good practice are met and protecting the patients as well as the doctors that have to imply with all these guides. And with respect to neuroethics, everything has been said, but in the field of studies, the implication of neuroscience for human self being ethics and policy. Like, for example, when you have enhancing drugs to increase your sport performance and to increase your better grades at school, these drugs could interfere with the maturation of the young ones. This is not ethical and this has to be looked after in a separate chapter rather than bioethics. Neurotoxins, of course, biological weapons, they interfere with your memory and organ functions, of course, is criminal, but also, of course, unethical. And something that is now coming more and more often, brain imaging. We obtain images within the brain which can influence decisions on the people. They use this to sell products. They tell you when somebody is lying, when it's not taking part of the personality or the own self clearly. And they can show even patterns deciding guilt or sanity, which also is interference with your own self. So let's talk about neurotechnology. Well, neurosurgery is a special. And why is it special? First of all, because we are dealing with a mass which is very gelatinous. It's not like muscle. It's not like bone. It's not like ligaments. The brain is a very delicate tissue that you cannot just push around when you want to take something out or correct something or some disease inside. That means that most of the pathology, some of the pathology is deep seated, which means there's minimal access. Long corridors have to be retained. They are all high eloquent areas that we need to be clear about. And of course, having high eloquent areas, any complication is a major one because you will lose function. And the patient, this will imply not only a physical disability, but also will affect your emotions, your self-mind, your self-esteem, everything. So that's what makes neurosurgery very, very special. So needs in practical neurosurgery, two things, basically. We need to perform delicate surgeries in a very narrow surgical field with the tissue, which is very, very delicate and pushing and making space is not very easy without causing damage for pressure. This relates to treatment. We also need to reproduce expert successes of technology, younger surgeons with fewer experience, which means training. We cannot get young neurosurgeons to practice in patients where a minor deviation of normal practice can cause tremendous damage. So while we talk about high technology, well, let me talk to you about the high technology from the beginning to the end. We started with micro instrumentation to access the deep, the depth and small working channels. We increase the visualization through magnification with microscopes. We then increase our accuracy with systems like navigation, virtual reality. We also can improve our dexterity in the field if we manage to get robots down into the field, which they have much more range of movements than we have outside the field where we're working at. And then we have nanotechnology, which is at the early stages, but is beyond the human eye. And eventually we will be able to send particles through nanorobots, which will implement these nanoparticles in where we want to target cells and cure the conditions. This is not far away. And we are working in some projects with a university, Hospital del Mar, with a university here in Italy, with treating bone tumors with nanorobots. So let's go back to history and let's talk about modern neurosurgery. As Professor Carrar was mentioning before, the first professional surgeon ever was Imhotep. This is 5000 years ago. And he was a neurosurgeon as well. So after that, there was not much surgery around until the Arabs in Spain, actually, in Cordoba, in the Califat of Cordoba, where Abulkasis was one of the first surgeons regarded. And that was about 700 years after Christ. But if we talk about modern neurosurgery, you have to understand this, you have to put yourself into the position, this is a very complex specialty, where you deal with a tissue highly delicate, which has had lots of eloquent areas, and which a complication is not like you're going to be limping, is that basically you will not have any movement or your speech will be gone. So the first stage is 1850 to 1930. In those cases, modern neurosurgery starts. Basically, it's concentrated on prevention and diagnosis. And for this, Sir Vector Horsley is the first neurosurgeon regarded where in the National Hospital of Queen Square, London, and he operates and removes a spinal tumor from a English captain who is a military man in India. Amazingly, this was one of the first cases he did, and the patient survived and lived for a few years after. You have to realize this operation was performed without coagulation, without formal anesthesia. So you have to understand that this operation took like eight or nine hours. A second stage, 1930 to 1960, looking after what happened in the first stage, people start working out how would they cover the before. If a field was bleeding, they put some gauze until the bleeding stops. Now they have to find something faster so they can coagulate these vessels and they can carry on with the operation. So great advances on microsurgery, visualization through microscopes, neuroanesthesia, new with Pentotal, so control before was with a gauze of ether. Neurointensive care to look after the patients after they are operated upon. Coagulation, coagulation systems, where you can clot and coagulate, bipolar coagulation, the vessels and so forth. So great innovation here. Now we go to the third stage. We operate only based on clinical grounds, what the neurologist says. In fact, Victor Horsley operation was with a neurologist in theatre telling him where he found the deficit so he could try and find the lesion above, below, so forth. The third stage changes dramatically this by the increasing surgical indications and the imaging dictatorship. CT scan, MRI are both invented in London. Both Hansfield and the MRI achieved Nobel Prizes respectively. And no wonder why, because the imaging changed completely. Not only you can make a diagnosis according to the imaging, but also you can locate where the problem is within the brain. So if you have to open the brain before, the skull before, and try and look for somewhere that you think or believe doesn't make sense because the damage onto the brain tissue is tremendous. Now with the imaging, you locate the area you're going to operate, you minimize the exposure and therefore minimize complications. Not only the MRI is relevant, but now the new technology like DTI fiber tracking systems where you can see where the fibers go of the relevant and eloquent areas where the speech is. They can match you laughing, crying, and they can see where the emotions are located within your brain tissue. This is all technology available, and this is available for many, many populations in the world. What happened was, I was taught in England, in Queen Square, by the way, where neurosurgery all started, and traditionally we were taught in the rules of see one, do one and teach one, which philosophy now is not acceptable in the current time. You need to be trained properly before getting and entering into a patient's body. This was started with Jasargit, one of the greatest neurosurgeons, who implemented the surgery masterships to train the future neurosurgeons and to make them responsible and knowledgeable about what they were doing. As before, the survival was the paradigm, so you did an operation, and if the patient survived, it doesn't matter if it was hemiplegic or paraplegic, this was a complete success. Of course, this has changed now. And the mentorship, they used to start standardizing techniques which minimize complications and time. They standardized management plans, and the scholars kept the competition up. The schools from Geneva compete with the London one, and by doing this, that stimulated the other groups to improve in the results. And this will be shown in relevant congresses, as you can see in this picture here, and they show the results, so they will become a bit more important. So function preservation is the 21st century paradigm. The National Health Service's main objective is to keep the population healthy. Health service costs increase exponentially as the procession of health is more demanding. Before somebody came to you and they were with some disability, but they wouldn't want to do an operation because they knew what the results would be, and they'd rather live the rest of the days like this. Now, health is more demanding, therefore more expense has to be met, and this is the expenditure of health in the US and the rest of European countries. You see a huge difference in price per person per year and GDP investment, and that's why the US have a huge IND, and that's why all the robots and all the new technology comes from the industry. But in order to make an investment, there has to be a relation between the therapeutic efforts and the results. If you're going to spend a lot of money in medicine, you need to get better results. The problem is that in many places, the results are not known. So if you don't keep data, you will never know where the money is going and if the money is well spent. And I think this is a big issue and a big problem. So now functional preservation is the main motive, and you can see all this technology available. And let me show you, because not all the technology is at present available. This is a 46-year-old man who works as a carpenter, cannot manage the wood with his left hand for four months. And this is his MRI. He's got a huge lesion on the upper cervical spine, close to the pontine and to the brainstem, where their breathing and the heart nucleus are. So two, three millimeters above the lesion, if this is damaged, the patient dies. So this is very simple to understand for those who do and deal with these things. And this is a short video to break up a little bit the talk and enjoy some surgical skills. We are opening the spinal cord from behind through a normal anatomical fissure. You can see the veins on the side. So we are not entering tissue because all the tissue of the spinal cord is eloquent. And as well as we only know, 20 to 25% of the function of the brain. And Professor Garra mentioned the Zuckerberg telepathy idea. It's absolutely correct. We know that the frontal lobes must have the telepathy. Sometimes you're trying to call a friend and suddenly he calls you. So you don't know why or how this has worked, but suddenly this is a telepathy. We need to cut and separate the tumor from the white stuff, which is the eloquent area. So we need to do sharp dissection. We cannot coagulate there because if you coagulate, the increase of temperature in the spinal cord can cause paraplegia or tetraplegia. So this is what are we dealing with. Now, if you use robotics here, this is the end of the tumor completely removed. If you use robotics here, a simple touch or an off guide can damage the spinal cord and there will be a very bad operation for the patient. This is how we went. This is the MRI post surgically, so all out. And this is the patient, which is the most, this is the most amazing and why we enjoy our profession as much. This guy has come back and he does cuttery and he does all these things that he loves. And he's extremely happy. This is 10 years ago now. So do we use the technology for everything? Well, we can use it for many things, but it's not for everything. This is now navigation. Navigation systems help you to be accurate. And accurate is something that you need to have when you are dealing with a high eloquent areas. So in this situation, I'm using navigation to put pedicle screws on three millimeter pedicle screws. And we need to put 3.5 millimeter screw on the pedicle. So we need to do a bigger screw because it will hold better. But we need to be very, very accurate because if we go medial to that pedicle, we will damage the spinal cord and the patient will suffer a paraplegia. Then if you have 10 screws to put in, you have 10 chances of damaging the spinal cord. So that's why you're required to be extremely accurate. Navigation provides you with this tool, provides you with this skill. Virtual reality is a little extension of navigation, but it's very, very good for training. It's cheap, it's reproducible, it's a planning tool, and you don't require any infrastructure. You can practice surgeries that you will do the next day, one after the other, after the other, to make sure you will find the structures that you will see in real life and real surgery. And this will provide you with the knowledge to, when you go, knowing what are you going to find in the way, not damaging it and being more careful. We have to realize millimeter movements can be devastating for the patient. And augmented reality is an extra, one step even forward, which allows you to blend real and virtual with real environment. And this is very elegant. You can see in the picture below as the X-ray is overlapping a body, which you can see in the microscope and therefore makes it more real at the point that you're putting the screw in this area. So now let's go and concentrate on robotics. What is the advantage of robotics? Well, robotics is they're all steps forward. And this not only gives you or can provide you with accuracy, but it can also provide you or give you dexterity. And I'd like to increase on that. The robotics have been great and shown great usefulness in gastric or intra-abdominal surgery. Why? Because you can inflate the abdomen. You have a fantastic space where you can put three or four terminals and you can manipulate the structures easy. The structures that you manipulate are not as sensible or sensitive as the brain is. Therefore, you have a wide variety of movements that you can do without causing major injuries. It's ideal robotics for intra-abdominal pathology. What happens with the brain? This is a different matter. What are the potentials of robotics? We're beyond human skill and recognition. They can recognize and they can be better surgeons than you in areas where the tissue, you can have a leeway of type of tissue you're dealing with. It will enhance your surgical skills because you will move in a robot and you'll have fine movements in your fingers, which will be translated into the robot. And this will provide you with much more skills, minimal, so micro skills. It will increase your speed, your accuracy and dexterity. And it's all based in sensor surgery and automation. The possibilities of new surgical procedures approach just fit for robotics. And in neurosurgery, this is a big issue. Believe me. You have an enhanced learning curve and it will enhance the surgical science. So what are the basic requirements for robotic surgical robots? They have to be safe, particularly in the brain or close to brain structures. They have to be precise and accurate. Again, particularly in neurosurgery, which is what we are talking now. They have to be easy to use. They have to be durable. There's no point spending a lot of money in a robot that breaks in two or three years. They have to be versatile. You cannot only have a robot to do a particular operation. You have to use a robot to do multiple operations in a field. And they have to be cost-covered. Now the prices are very high. And the number of operations is proven very, very successful for prostate. with the DaVinci robot and abdominal bypass gastric. They are very useful for, certainly not for spine or for brain. So what are the directions of the surgical robots in neurosurgery? Well, accuracy enhancing system and dexterity enhancing system. You can see the accuracy I've shown you before, but imagine that you are going deep in the field, that you're working about five or 10 centimeters deep, and you're moving your hands from 10 centimeters from the top of the area that you want to operate on. But if you can put two little arms, robotic arms down there with major range of movements within the depth, the possibilities are amazing. However, in this case, they are trying to do a bypass, which is an archery-to-archery bypass within the brain. This, of course, is on a rat or an animal, not a rat. But any butt puncture provides bleeding and bleeding there destroys the whole field. And then it's much more difficult. So it's potentially amazing, but it's not easy. And for that, robotics has started in brain to put electrodes for epilepsy. And you mentioned this, Professor Gara, before. And the level of accuracy of this compared to frame-based ECEG is that the time of implantation is less than half. The accuracy is the same or better. And the less, and the electrodes, sorry, and the mobility is less or better. Now, how about the Da Vinci? This is what we are talking about. Can you mimic the Da Vinci's structure with a transaural probiotic through the mouth? Well, you cannot. Why? Because the area on abdominal is much, much bigger and wider because you can inflate it and make it a huge area of working space. Whereas in the mouth, you have a very limited area. You have to go down. And if you damage the structures behind the cervical spine, you can cause a sudden death on the patient. This is how it looks. To be honest, if you've seen the Da Vinci look very wide and located position of the electrodes. Whereas in the mouth, they are all in and even you're working down there, the elements can be touching among themselves in the surface. And this will, this program, the whole robotic surgical plan. This is the robot hand arm in the clibus after an operation. This is on cadaveric specimens. This is how the drill drills according to the program, which is very, very accurate and drills perfectly well, preserving all the structures and delicate structures that you want to preserve far in advance in the program or pre-programmed computer and within the robot. And this is once he's gone through the bone and this is the pituitary gland. So it's preserving the pituitary gland again. This is in a, in a, in a, in a cadaver is not a real human. So the next step is to try and put two little robotic arms, which is hugely costly, technically wise, but will be very, very helpful. And this is to try and do this through two nostrils. But you have to understand that doing this through nostrils also, again, they're working down in the depth of 10 centimeters, but the, but the two arms can be touching on the top. And by touching on the top, they have to be completely free to make sure they do the work as programming the plan. If they're not touching or interfering, this can be major disaster for the patient. And again, this is a neuro arm. These are all difficult, different robotics. And one of the robotics laboratory, which are now doing extradural endo-exroscopic application, which will improve dexterity in deep and narrow surgical corridors. And this not only implies to the nose, but also through the skull base. Then the robotic system for super neurosurgery, dexterity beyond human skill. This is for training and evaluation and archiving surgical technique. This is keeping all the data so we can enhance surgical science. This is a comparison into laparoscopic surgery and nasal surgery. This is what I was saying to you before. The collision of the tools outside the view is the major danger. And you're talking about an area which is of highly eloquency and highly delicacy, not comparing to the abdomen where you can see the large port distance, whereas the port distance in the skull base are minimal. And this is how an arm of robotics should do. And you can see, this was a video, but you can see this rotating and this rotates down in the field, which makes it more elegant because your hand will never be able to get down there and do these movements that the robot can do. So that is this in this sense makes a lot of sense to use robotic, but we need to find thinner arms because the space and the corridor are very shallow and narrow. And now is it difficult to learn the technique? Very easy. These are robotic experiments, the Murillo's learning curve. The first day you do it and takes you a long time. You have 30 days gap and then you try it again and it takes you half the time. You do six days gap and then you do it again from scratch and you take less. So the learning curve is very, very fast indeed. And you can see this in three different subjects because we are all different. We are, some are more skillful than the others, but even trying in three different subjects, there's a common denominator. And this is the first of two cases. They take a long time, but after three or four, the learning curve reduces dramatically the time you spend to do this procedure. And if you look and compare your hand in a shallow versus the robot, the robot does it in less time. If you do it in the deep robot, that's it less than half the time. And you compare robots with robot. They equally do it in the same time. So what is the future neurosurgery with respect to robots? We know a science, academia, health specialists and regulation ethics is very, very important here. Maximally effective minimally invasive surgery. This is the goal that we are tending to, but we need to train, educate the new generations effectively and thoroughly, honestly, and making sure they do the right thing, no matter how long it takes. We need to have the money to have robotic technology in all neurosurgical centers and countries. Let's talk very briefly on neurobionics and brain-computer interface. This is very, very interesting. This is highly complex and highly unethical in many senses. Neurobionics is the science of directly integrating electronics within the nervous system directly to repair or substitute impaired factors. These are being used now on patients who are tetraplegic or paraplegic or have epileptic surgery, epileptic fits and so on. The brain-computer interface is a linkage of the brain to computers through the scalp, subdural or intercortical electrodes. So this is an overview of how it works. You can see the green arrows, the penetrating electrodes, send a signal. These are amplified. They're taken by a computer and the computer returns these two robotic limbs to make them move according to what your will is. So this is very, very interesting and very complex to understand. But currently these implanted devices have an electronic plug connected through the scalp with attached cables. This is clearly not a viable solution for a long time. And I think Professor Carrara mentioned Elon Musk and he's trying to do this through to improve functionality by using two things. It's wireless interfaces, which are beginning now to emerge and to use the BCIs, which are as little as micro electronic devices as they can to make it more cosmetically. And because it's very, very heavy to weigh this. These are some of the micro electrodes that you implant in the brain tissue. So this is implanted with the brain and you have to realize that this can cause bleeding, hematomas and death. So it's not, it's not easy. And you, that's where the neuroethics start, start clear. So what are the, what are the uses of the motor interfaces? Well, you record motor cortex in paralyzed humans. This is decoded by a computer and used to drive robotic arms, restore movements in paralyzed hands, or even stimulate muscles of the forearm, of the arm, the legs, or whatever. This simultaneously integrates the BCI with the sensory cortex will further enhance dexterity and fine control. Why? Because you only move by the motor muscles, but you need to have the balance. And only the sensory cortex by producing, by, can, can help you on that by regulating the joint position sense, which is as important as the muscle function. The BCIs are also being developed to provide ambulation of paraplegic patients through exoskeletons. I'll see some cases here. You can restore vision in people with acquired blindness. They can detect and control the epileptic seizures, and they can improve control of movement disorders and memory enhancement. Let me show you this video, which is a bit of a demonstration. Although this is a promising demonstration, this is still in a long way. This is a tetraplegic patient, which starts stopping on a walking exoskeleton. As you can see, this patient is not walking by himself. And this works in the way that you're going to see that two wireless sensors are implanted in the brain. These sensors record electrical signals from the brain and send commands to this machine. Then the machine has to be trained, starting with simple virtual stimulations, like moving these to touch the ball. You cannot put an exoskeleton from scratch to a patient, which is damaged because clearly it's not going to work. Then they have to work on, with the virtual avatar, two different orientations to touch the box until it becomes yellow. Then with the other arm. Only this defines yourself joint position sense, which is the key to make this happen. Thirdly, they need to understand that when the lights go in the left, they have to turn the hand on the left. And when the lights go on the right, they have to turn the hand on the right. This also gives you visual input to the movement of the skill and then touch the light that you have been pointed there. This is all exercises that this patient has to do even before considering putting the exoskeleton on. And then after this is performed satisfactorily, they put on a stand and the patient sign signals, they start and stop. This is hanging with a thing which is holding him, but he is voluntarily walking and moving the legs according to what he wants to do. Okay, but look at the weight of this exoskeleton, which is extremely heavy for this patient. And many people will say, well, listen, I'm not going to be bothered because this is too much. This other patient is moving the wheelchair using brain BCI technology too. And this is his wheelchair. So he's doing it sitting down, but he will be doing this. And this is all in the Lancet neurology. Another patient who is blind. Yeah. Yeah. She is asking to put the chocolate so you can see and it's all by the electrodes, which is implanted. So amazing technology is coming up and she can see, you can see she's happy, but certainly not many. This other patient, which has got some tetraplegia, he's sending WhatsApp by signal with the eyes. With signal, eye signaling, he's moving. You can see the head moving. He's looking and targeting and clicking his eyes. Then opens up there. They can put the letters up in the WhatsApp and send WhatsApp or emails or whatever. This is the latest technology in visual recognition. But what are the ethical considerations? User safety and risk business, humanity and personhood, stigma and normality, privacy and security. This is a big issue, particularly in that because you are entering brain of a patient. You can collect the data and perhaps he's not happy or willing to do that for you. So in order to use safety and risk, it's very difficult. And among all concerns in the literature, the most commonly mentioned issues are the safety of VCI, the related balance of risk and benefit for the user. Even the non-invasive devices can be of serious risk and harm for the patient. And with respect to humanity and personhood, neuroethics, well, the patients themselves do not tend to worry much with changes of identity because after the injury they suffered, they already have these radical identity changes made. When to reincorporate tools into ourselves. Is it the tool or is it myself? Who is moving? Is it me or is it the skeleton? This makes a huge humanity and personhood. We're risking, this brings the problematic that robotics may be a risk of losing what makes us human. And I think this is one of the major issues as personhood. This is a stigma and normality and the privacy, which I already mentioned, the violations of user privacy. They not only collect the data in the brain, they have the potential to collect more other things, emotions. They can know the person better. They can use this to sell them things or to provide them with other or give them false hopes. And this is unethical. So this is all a big issue now with regards of this new technology, which although solves the problem, which is amazing for putting to work someone. And we remember the avatar film that you were mentioning before where this guy is paraplegic and the avatar is non. He has a fantastic feeling there, but then he goes back to his normal person and then he has depression, non-depression. This all affects the body and the mind particularly. So to end up with my talk, I'm going to be, this is my big thing. And I think an even training and an even treatment also is a neurothetical issue. I think it is. I think it's not good if you live in a street in Rome and you have a unit with MRI in the hospital, in the theater to have a brain tumor removed here. And you live in the other side of the street and you have to go to the other hospital, which they haven't got the technology. I think this is not ethical and this is something that we need to work to make things as even as equal as we can. I have been working on models of cooperation and training. And as you know, I've been president of the Society of Neurosurgery from 2017, 2019. And at this time I've been looking at models of training. We have a model of training, which is, sorry, go back to that. This was moved by me when they saw a program in the TV where they said, we're asking young children, what would you want to do? If you want to change the world, what do you think you need? One of them said you need more love. Some of them said we need to have a peaceful world. One said they have to have the will to get better. One said we need more money to invest in the old countries. But it strikes to me one thing, and I think it's the key to change the world, and this is education. But education has to be right. And when I say right, you need to know how to educate. And I think the University of Professor Carrara and many universities, UNESCO, has a very big commitment on education. I think we need to use all the weapons that we have at this disposal to make education available and proximal to every single human being. I know it's not easy to particular countries because politics lead those social changes, but we need to persevere in order to obtain. You need to have the infrastructure. If you don't have it, you build it. We have money, lots of money to do that. You need to be realistic about what you can do, where and when. You cannot train the same people in Guatemala that you can train in Germany. There are different infrastructures, there are different mental awareness. This also has to be taken into account. But the global, the main goal is to standardize training around the globe, because only if we standardize training, we will be able to standardize treatment. And we will see about the technology. Of course, not everyone will be having the latest technology. There will be always a little impasse there, but we need to cut this impasse. So at least people like in Africa, the continent I visit regularly, we send microscopes to make them do operations with better and more and safer technology. And you can see these patients, these doctors, when they use this technology, they take the profession much more seriously because now they start to believe and to see that the results improve. So that's our target. In the European training has been a paradigm in training around the globe. We started about 50 years ago. Now we run three cycles of 600 trainees every year we train. We do also now hands-on courses. This was implemented during my presidency with the next president that we've been doing this. And we have an exit exam. The European trainers, which as a professor, are also being monitored by a master trainer to make sure that we are keeping up to date. So we are available or we are capable of training our trainees. So this is all well done. This is how it looked. The neurosurgeons training countries in Europe. And this is our target. All equal in white. Initially in 2000, 75% of the trainees came from the Western Europe, versus 25% in the Eastern Europe. Now, 2021, we seem that we have finished most of the Western European trainees, and they are coming much more and more from the Eastern Europeans. So the goal of a standardization of European training, it will happen, I think, in 2025 to 2013. So what we are doing with this? Well, in order to achieve this, of course, we need to come with the politics, but politics must guarantee equal chances of training to all citizens. Understand that to guarantee this treatment, they have to guarantee equal training to all the residents. We need to distribute better the centers or the units of neurosurgery, so all the ones do the same pathology, they have the same technology, and they are audited to see who is doing the right things or bad things, who are being ethical with the results or unethical with the patients. So after we implemented this in Europe, which has been implemented for 50 years, I said, this is the first course which we sent all these training techniques and technology to Latin America, because I have very close relations to Latin American society, and we thought that we will implement our training scheme to Latin America, so they can be equal to us in the form of training. So they get the same training as us. So eventually we have another continent attached to this global neurosurgical training scheme. And this is one of my African ventures, and I'm going to pass this through. We go there, we teach them. Some of them see things wrongly the first day, but then afterwards they understand this is a great experience. But we not only grow neurosurgeons there to operate and teach them how to operate, we do integral training. We take nursing staff, we take anesthetists, we take ICU doctors. When we treat the patient, we see them in the clinic, we operate on them, we send them to the ICU, and we have one of each members from Spain coming and teaching the relevant steps where the patient comes and the patient leaves. So that's the whole integral process, which they don't tend to do in many other areas. So we need to train the whole process, not only the neurosurgeons, because you can train them to do a good operation. But if they go to ICU and they don't know what to do, the patient will die from complications unrelated to surgery. So we need to do integral training. This is mandatory. This is how we teach the doctors. The nursing staff are watching. The anesthetist is teaching. The other anesthetist is here. You can see everyone working together. We go through the wards. We see the patients. They feel loved and treated accordingly. They are very happy. The doctor who was a trainee with two surgeons from Barcelona who came to help give me assistance. He was extremely happy with the learning scheme and so on. And you can see more pictures, transversal, other schools doing their own part. Then we need to, how do we recruit personnel? We have the NGOs, which are doing a great job. And we went to Africa with an NGO. NET has done a fantastic job in Africa. We follow them and they do a fantastic job, as I said, training. And they've started a surgical training scheme, which we accompanied. Then these are the societies that we are working together towards this global neurosurgical training project. And this is my project. After I've been doing all this thing. Neurofoundation is a name which is not being registered. But what I thought is, if we go to Africa, we teach them there. And we leave. We leave them again there. I don't think we're doing, we're achieving anything. You need to, they need to feel that they are loved and they are respected. For that reason, I intend to bring these surgeons to Spain in our centers to be trained as a proper resident in a westernized country. They are happy to come. Nairobi has two centers in Kenya. Sorry, Kenya has two centers, one in Nairobi, one in Mombasa. We have spoken to the government to create three other centers in Kenya. So we will train the surgeon in Spain. We will train the surgeon for one year. We will be on the accreditation exam, exit exam for them. So once they are accredited, we locate them in one of these centers, which we have foundation will be paying for the theater structure. The equipment of the theater will also allow other continental societies through a bag of work where they will get residents and they will support this new doctor in the new center. So they don't travel alone the first year during the first year of his opening center. And we will liaise with a web page, all the centers to have real time information with our center in Barcelona. So if they have any concerns or worries through 5G technology, we'll be able to send us the pictures. We'll be able to discuss the cases with them. So we give them not only training for them, but a workplace with equipment relevant. But also we give them support with residents, with senior neurosurgeons. And we do this with the Vatican. And this was my visit with the Holy Father about two years ago where I explained this project to him. And thanks to him, we are allowed to get these people into Barcelona, free expenses in the Muy Ilustre Administración, which is an organization with the Vatican and the Pope directly involved. And I have to be very thankful for the collaboration of the Catholic Church on this project. And as you can see in the bottom picture, I wanted to give him a surgical hat to the Holy Father to feel like he was one of us, one of the surgeons who go to Africa and implement these works. And he was very happy. He was smiling. He was in a good mood that day. And we had a fantastic time where he received me up in his in his central offices as a private audience. I was very honored and one of a lifetime experience, which I will never forget. What has been achieved, and I'm finishing now, sorry, the last two slides, neurosurgeons in Sub-Saharan Africa in 1992. In the left, you can see they have in Kenya one per 8.5 million. Well, the region was one neurosurgeon for 16 million population. In Spain is one neurosurgeon for 100,000. In the US, one neurosurgeon for 50 or 60,000. We believe in the European standards, one neurosurgeon per 100 or 150,000 is the right number. Now in 2019, we have in the region one neurosurgeon for 3 million. There are more pathology than in Europe, and we have less neurosurgeons to be covered. We are working on the missions, but the mission will be when there is no mission. And this is what we're working with this project of mine that I'm doing. So in summary, neurosurgery technology grows fast. Neuroethics grows at the same pace. Huge issues are present, particularly with the BCIs. Introduce various neurosurgical robot systems and their value, which are very good for training and for dexterity in the field. Medical engineering can enhance surgical science and education. The academic health consensus and scientific initiatives should drive the future of neurosurgery. Study the patient, know the patient, treat the patient, protect the self-being and protect the soul. Thank you very much. I don't know if somebody wants to do a question or something, but I will disconnect my and you talk. Parlero un attimo ispañol. Realmente. Muchas gracias. Realmente fue una lecture muy interesante, completa. Non solo per la parte neurochirurgica, che era eccezionale, eccellente, ma anche appunto per la sensibilità e avete visto tutta l'ultima parte come un'applicazione. Io penso che questo è veramente un esercizio neuroetico, no? Esatto. Perché non è semplicemente, no? Uno fa il suo lavoro, no? Tu sei il lavoro chirurgo e quindi operi, fai ricerca, pubblichi, fai il tuo lavoro, ma c'è qualcosa di più, no? E quel qualcosa di più richiama che cosa? La nostra umanità, il nostro senso, come dice Papa Francesco, anche di essere tutti fratelli, fratelli tutti, ma anche tutti i membri di una stessa natura, come anche la pandemia ci ha purtroppo, no? È fatto di più rendere conto che siamo uniti, no? E solo uniti, diciamo, no? Contro l'isolamento, contro l'egoismo che magari ci incentra, no? E quindi questo messaggio anche conclusivo, molto bello, che non è solo bello, ma è anche concreto e efficace, no? Penso che sia un esercizio, una prassi e anche neuroetica importante, poi da contagiare, no? Da contaminare, no? Da contagiare, no? Da contagiare il mondo attraverso quello noi, dal nostro punto di vista, tutto l'appoggio anche morale, ma anche pratico, per quello che possiamo come gruppo di ricerca, la diffusione, ma anche l'invito, no? A coloro che ci servono di unire le forze per qualcosa che può incidere, che già lo sta facendo, avete visto, no? Come... I think, I think, io cambio all'anglese, il mio italiano non è buono, but I think, yes, la unione fa la forza, no? La unione fa la forza, questo è chiaro. E io, questo progetto fachare a l'Àfrica, per me è una priorità grande, la possibilità di que ellos tengan la possibilità, la possibilità di che se puedan curare pacientes che ora mueren, perché la patologia che hanno è salvable. Piensa che in Africa le tre speciali più necessità sono ginecologia, chirurgia generali e neurocirurgia. E la che più morti, per no accion, produce, evidentemente, è neurocirurgia. Quindi, stiamo parlando del hambre, stiamo parlando, che sì, che è molto importante. Io, la prima volta, andare a Mali e una riunione... Se parlo lento, io credo che me entendono in spagnolo, no? No, in spagnolo, in spagnolo. Io fui a Mali e ci siamo in un hospital e vimos a 10 pacienti. De questi 10 pacienti, 6 già non si podono fare nulla. E in 4 podíamos averle salvato la vita. No podíamos operar perché non aveva struttura, queríamos montarla. e noi riuniamo esa tarda con Médicos Sin Fronteras, UNICEF, la ambazadora di España, che stava allì. E, parlando con loro, gli ho detto, gli ho detto, no, gli ho detto, gli ho detto, siamo neurocirurgi, veniamo a vedere se possiamo salvare una vita. E tu gli ho detto, no, io gli ho detto, le ho detto, le ho detto, le ho detto, le ho detto, a lo mejor 4 o 5... No, noi siamo qui perché se gli insegniamo a lavar le mani, possiamo salvare mille di vidi. Osea, prevenzione. Io entendo che la prevenzione, però io non mi dedico a prevenzione, io mi dedico a neurocirurgia. Io non posso dire a mia casa, ah, bueno, come non posso fare nulla ma che salvare altre vidi, me voy a casa. No, io non sono così. Io tengo, in lo che io sei, explotarla e darla, perché noi siamo fortunati, Alberto. Noi abbiamo la fortuna di aver studiato una carriera, aver disfrutato con questa professione. questo è che darlo di volta. You must give it back. E questo è lo che io entendo con una fondazione in cui io lo che voglio è darles la struttura, darles il know-how, perché, se io vi allì, sì che stanno pendiente di me, e vogliono apprendere, però se io li leggo a España, e li voglio, e gli dico, mira, sois importanti per me, e per questo ti trago a Barcelona, per insegnarti, perché credo che hai un futuro. quando arriva il, che viene con il anestesista e la infermera anche a España, van a venire e van a dire, no, no, questo lo ho visto allì, e questo ora è il mio obiettivo, facerlo come lo facendo allà, per che quando vengano, vean che non li abbiamo defraudato. E questo non ha nada che vero con ir, che vengano, che miden, oh, sì, no, è un concepto totalmente diverso. È molto difficile, perché implica cambiamenti politici in l'educazione della docenza, e è difficile, però io sono molto terco perché sono aragonese, e in Aragone i tercini acabano llevandosi il gatto all'acqua. È un messaggio molto bello, molto positivo, molto pratico, molto concreto, quindi veramente, tanti auguri anche, avanti tutta, anche con questo impulso del Papa Francesco, che vale una linea, una linea molto pratica, molto, se posso fare qualcosa per una sola persona, una sola vita, la devo fare, no? E anche il tema che si collega dell'equità, no? Il grande tema dell'equità, della distribuzione non solo delle conoscenze, ma poi anche delle cose tecniche, tecnologiche, pensiamo che la pandemia, l'accesso ai vaccini, il tema dell'equità è al centro di tutti, dovrebbe essere al centro di tutti? No, è che tutti siamo umani o no, o hai umani di prima categoria, umani di seconda, no, siamo tutti, quindi hai che fare lo possibile per che questa qualità non solo corresponda a diretti fondamentali che sì che ci hanno che avere e che non ci sono io mi dedico a la neurocirurgia e posso dedicarmi a una rama medica se ha fatto, però io ho che explotare mis conocimientos e transmitirli, io non posso metermi in qualcosa che non conosco, però sì che è certo che se hai niente muriendosi in África perché non hai falta di neurocirurgia o di infrastruttura, se io posso fare questa fondazione e posso evitare e posso darles una qualità di vita io credo che la gente quando sta in esos paesi dove hai desesperazione hai tristeza lo stiamo parlando antes dei catòlici che stanno alli i missionari che facendo un lavoro comiabile e espectacular alli beh, stanno in piedi in linea di alli in la prima linea di battaglia sufiendo incluso asesinato per parte dei gruppi radicali che vivono alli quindi se stanno alli perché se dedicano e sacrificano la vita con lo che sape e con lo che vuole e con lo che creen perché che facciamo altra cosa non lo facciamo questo è quello che facciamo e darles apoyo a loro e è la unione che fa la forza avanti tutto avanti tutto avanti tutto benissimo grazie una pregunta ma anche appunto ci sono delle domande quella che dice thank you thanks a lot professor Lafuente a santa sana a santa sana maria grazia quindi abbiamo anche vedi abbiamo anche dal dal Kenya ci stanno seguendo se ci sono una o due domande se no noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione per oggi e ringrazio io penso che questo questa conferenza di oggi questo pomeriggio di oggi ha aperto molte il nostro percorso perché anche vedete che non è stata pura scienza pura prassi medica che c'è stata molta ma anche questa prassi medica va sempre stata vincolata legata al tema dell'etica della neuroetica e del dell'ambito sociale in un certo senso vedete anche quello che il gruppo neurovietico vuole trasmettere e vuole fare è questa sensibilizzazione i primi autori di cui parlavo sono clinici medici e non a caso il nostro gruppo di ricerche neuroetica biotica non nasce da filosofi psicologi eccetera ma nasce da clinici neurologi neurochirurghi psichiatri che studiando l'etica studiando la biotica del nostro ateneo come hanno voluto no poi si è creato questo grande gruppo di ricerca interdisciplinare perché certamente ogni prospettiva poi aiutano poi dentro una tavola di dialogo ogni prospettiva ha un valore aggiunto un valore aggiunto per la comprensione perché non l'avevo detto per la springer due autori del volume che io chiamo la bibbia della neuroetica perché sono due tre volumi 1850 pagine manuale del borsiglio del 2015 iniziano con questa definizione neuroetica è una riflessione è una riflessione informata non solo informata ma anche sulle neuroscienze ma poi dicono ma anche sulle interpretazioni le interpretazioni anche delle neuroscienze sono molto importanti no perché perché dalla nostra prospettiva se io interpreto il cervello come come l'hardware di un computer anche avrò una prassi di vita e anche sociale in un certo modo no? se lo interpreto come un ingranaggio come un orologio svizzero anche questo avrà implicitamente una se lo interpreto una visione per esempio organismica avrà un altro tipo di approccio quindi anche le interpretazioni sono importanti e loro dicevano che lo scopo della neuroetica era oltre a questo di analizzare la proposta delle neuroscienze e le loro interpretazioni il fine è la una miglior autocomprensione di noi stessi e quindi è molto interessante come effettivamente la scienza stessa è una riflessione etica neuroetica filosofica ma poi anche giuridica ma poi abbiamo anche altri teologica sul stesso soggetto di studio in questo caso il cervello il cervello e il cervello nervoso ci richiama proprio per l'importanza di questo organo a riflettere sulla antropologia su chi sono? chi sono? benissimo allora io ringrazio di nuovo il professor grazie a tutti i nostri iscritti e anche i membri del gruppo di neuroietica riceveranno il link alla videoregistrazione di questo evento ricordo noi ci rivediamo poi ad ottobre ottobre sarà un mese anche molto intenso vi anticipo già sia per il nostro seminario ma nel mese avremo tantissimi altri eventi collaterali la presenta non ultima la presentazione nostro ultimo volume sul trapianto di testa e le sfide neuroetiche e poi diverse conferenze sulla neuroetica e lascio la parola ultima al professor grazia no si e ricordo che fino alla fine di questo mese c'è la possibilità di iscriversi al corso con uno sconto e poi avremo tutto il mese di ottobre ancora per la possibilità di iscriversi quindi abbiamo c'è tempo e so che ci stanno seguendo un po' da diverse parti anche del mondo e ringrazio tutti i nostri membri e amici del gruppo di ricerca neuroietica e io vi lascio e ci rivediamo il prossimo mese annuncio che io sarò dalla prossima settimana in Messico quindi poi avrete notizie da mercoledì prossimo dopo la Pontificia Accademia per la vita ricordo e quindi ringrazio anche gli organizzatori da lunedì prossimo c'è ancora possibilità di iscriversi anche alla Pontificia Accademia per la vita a due giorni tratteremo tutti gli ambiti dell'emergenza sanitaria, covid, etica, politica e società nella Pontificia Accademia per la vita ricordo l'evento è online e solo gli accademici presenti potranno essere in situ e da mercoledì sarò in Messico e porterò diciamo le prospettive sia sulla neuroetica eccetera in diverse università della nostra rete di università tra la città del Messico, Oaxaca, Puebla e Veracruz la nuova università, la sedicesima università che abbiamo inaugurato a Jalapa Veracruz e quindi poi seguiteci sui nostri social ricordo il nostro Instagram chiocciola neurobiotics e la nostra pagina Facebook neurobiotics neuroscienze neuroetica e potete seguire le nostre attività lì. Alla prossima, grazie 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 Grazie